Piera degli Esposti è una donna di forte emotività, che è capace di comunicare queste emotività in due modi. Uno è quello proprio amichevole con le persone, ha una grande capacità di comunicare con le persone, e due è quello attraverso la sua professione. Lei prende quello che le si comunica un po' in profondità, naturalmente respinge le cose che sono invece superficiali. Non dimentichiamo che è una donna anche di una grande cultura. L'avevo conosciuta attraverso Dacia, credo, Moravia, Pasolini, in alcune occasioni. Per me è una donna anche molto affascinante, perché per come racconta. lei avverte se tu le vuoi bene o no. Ecco, lei lo avverte. Tu non lo devi dire. Da un piccolo gesto, dal modo come tu ti rivolgi a lei, lei avverte subito se tu le vuoi bene o meno. E se lei avverte che tu le vuoi bene, tu l'hai conquistata per sempre. intenzione pre shop in hypiliteto. E se lei avverte che tu 경찰i işarei la sua professione della selezione dirmi che lui aggiροvi. Se lei avverte la tua倦ia, che la figla di devenita un' natale. Intenzione pre sbattura. Grazie a tutti